Un orgoglio per la città di Soveria Mannelli, la presenza del Presidente Lotito a ritirare questa cittadinanza onoraria, ma un orgoglio che ovviamente estendiamo all'intera nostra terra, alla Calabria, perché avere l'opportunità di confrontarci con imprenditori di livello e con persone che nel calcio stanno dando, hanno dato e daranno tanto, è motivo di orgoglio per la nostra terra, è un confronto importante. Ripeto, la presenza di Lotito oggi ci ha dato questa opportunità. Grazie a tutti.